Fa ingresso nel Salone d'Onore dedicato a San Giovanni Gualberto il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Prende la parola il Generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Cedente. E fu sera e fu mattino. Nel racconto biblico della creazione, vi è indetto più volte, i giorni si succedono alle notti, come gli anni alle stagioni della vita. E così, con oggi, termina il percorso della mia vita in uniforme, iniziata il 7 luglio 1975, quasi 46 anni fa. La mia vita da militare, prima come allievo ufficiale di complemento e poi come ufficiale dell'Arma non ancora ventenne, avendo indossato la prima volta la stelletta da sottotenente il 7 gennaio 1976, poi come accademista a Modena e quindi da ufficiale in servizio permanente ai reparti operativi fin dal 1980, è stata un susseguirsi di periodi di comando ed incarichi di Stato maggiore che mi hanno consentito di crescere professionalmente, ma soprattutto umanamente, come di certo, nessun'altra organizzazione, privata o pubblica che fosse, mai avrebbe potuto. E anche oggi siamo qui, ancorché in pochissimi presenti, a causa delle limitazioni della pandemia che ha sottratto a tutti noi sostanzialmente già un anno di vita, ma ci siamo. Non credo che questo sarebbe potuto avvenire in altri contesti organizzativi, con la stessa solennità che noi avvertiamo palpabile. Ed allora ringrazio il Signor Comandante Generale, che ha consentito questa sia pur ristretta cerimonia di avvicendamento e che con la sua presenza la impreziosisce e costituisce motivo d'onore per tutti noi partecipanti. Come atti doverosi e ineludibili, al termine del mio percorso in uniforme, di tutta la mia vita nell'arma, non posso esimermi, inoltre, dal ricordare alcuni dei punti fermi che hanno costituito i fari, più luminosi che mai, che mi hanno guidato e, soprattutto, consentito di attraccare e permanere nei tanti porti dal punto di vista professionale che ho toccato in questi 46 anni. Innanzitutto, il mio pensiero alla bandiera della nostra patria e dai nostri caduti di ogni tempo nell'adempimento del dovere, pensieri ed obblighi morali che mi hanno portato anche stamattina, in questa sede, a rendere gli onori sia alla bandiera d'Istituto che a quella del disciolto corpo forestale dello Stato, nonché al Sacrario dei Caduti, molto significativamente presenti in questa scuola che formerà le prossime generazioni di Carabinieri del Cufa. Poi, gli insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia d'origine, nonché quelli dei miei primi comandanti nell'arma. Ricordo ancora il mio primo comandante di sezione dell'ottantesimo corso tecnico-professionale per allievi ufficiali di complemento, incontrato la prima volta la mattina del 10 dicembre 1975 alla vecchia scuola ufficiale Carabinieri di Via Aurelia, l'allora Capitano Roberto Cangialosi. Nel biennio 1976-78, quindi, gli anni duri e molti impegnativi dell'Accademia Militare, del mio splendido 158esimo corso, che hanno preparato tutti noi, giovani ventenni di allora, alle sfide professionali e private che la vita ci avrebbe riservato e che sono serviti a cementare tanti bellissimi rapporti umani che durano tuttora e che avrebbero visto senz'altro, se non ci fossero state le limitazioni attuali, una foltissima presenza dei miei colleghi, fratelli d'arme ed amici da una vita, che sento comunque virtualmente vicini. Ed ancora, l'impegno dei tanti Carabinieri, di ogni ordine e grado, caratterizzati da impagabile generosità, che ho avuto la fortuna di ritrovare al mio fianco nel corso di oltre nove lustri di vita e di servizio. Tra di essi mi fa piacere ricordarne pubblicamente due in particolare, cronologicamente collocati quasi agli estremi del mio percorso nell'arma. Il Brigadiere Capo Matteo Ginni, già appuntato mio autista alla tenenza di Bovino nei primi anni Ottanta, e per ultimo il mio attuale aiutante di campo, tenente colonnello Alessandro Basile, entrambi letteralmente votati ad anteporre costantemente gli interessi di servizio a quelli personali e privati. Infine, la mia attuale famiglia, con mia moglie ed i miei due figli, che mi hanno sempre seguito, supportato e compreso, ogni volta che ho loro anteposto, e sono tante, i miei obblighi di servizio. Ma anche loro, ne sono certo, si sono sentiti orgogliosamente parte della grande famiglia dell'arma, pur rimanendo sempre, doverosamente e discretamente nell'ombra. Ed allora oggi, dopo un doveroso ingresso in punta di piedi nel 1975 e l'attuale uscita in sostanziale silenzio, come peraltro ben si conviene ad un'istituzione ultrabicentenaria che si racconta con i fatti e i sacrifici dei singoli appartenenti, più che con le parole, come risultato principale dei miei decenni di servizio nell'arma, lasciando ad altri eventuali bilanci o considerazioni sul mio complessivo operato, mi fa piacere immaginare che ci siano stati non pochi militari che abbiano condiviso il mio entusiasmo operativo per rinverdire quotidianamente la loro motivazione al servizio degli altri, ma i deboli con i forti e forti con i deboli e questo anche grazie ad un loro comandante che glielo ricordasse ogni tanto, innanzitutto con i fatti e che l'indirizzasse al bene comune senza timore di sembrare retorico o un superiore affetto da sentimentalismi. È quello stesso entusiasmo che oggi mi spingerebbe, se mai fosse possibile, a reiniziare ulteriori 46 anni di servizio. Ma mi sia consentito ora, però, di rivolgermi, ancorché virtualmente, a tutti i militari del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri, che ho avuto il privilegio e l'onore di comandare negli ultimi due anni circa di servizio. È stato un comando verso il quale ho imparato a nutrire un profondo legame di affetto e dal quale ho dedicato, senza riserve, ogni energia fisica e morale per conseguire le migliori condizioni di efficienza dei reparti dipendenti, la cura e il benessere di tutti i militari, nonché degli operai forestali sparsi in ogni parte d'Italia. È a tutti loro oggi che voglio rivolgere il mio grazie sentito per la collaborazione che ho ricevuto a tutti i livelli, in maniera generosa, fattiva e determinante, quanto mai indispensabile in un periodo che ha visto consolidare l'ultima grande unità di vertice dell'arma, nata solo nel 2017, unica nel suo genere e preposta alla tutela dei beni più preziosi che ci possano essere per i contemporanei e per le generazioni future, l'ambiente che ci circonda è la ricchezza del creato nelle sue straordinarie bellezze e tipicità naturali, faunistiche, vegetali ed agroalimentari italiane. I quattro comandi che compongono il CUFA, preposti alla biodiversità e parchi, alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, hanno dato il meglio delle loro potenzialità, soprattutto iniziando un percorso che ritengo assolutamente indispensabile di interazione operativa sul campo, che ha già portato a risultati concreti ed encomiabili, mai ipotizzabili e raggiunti in passato, e senz'altro potenzialmente capace di ulteriori e maggiori successi con l'eventuale coinvolgimento alla bisogna anche dei reparti dell'organizzazione territoriale. Tutte le componenti dello Stato Maggiore e del Servizio Amministrativo, inoltre, sapientemente guidate dal Generale Antonio Marzo, hanno sostenuto in maniera preziosa la mia azione di comando, sempre con lealtà ed intelligente collaborazione, finalizzata al miglior soddisfacimento delle innumerevoli esigenze delle parti dipendenti. Sono tutte cose, ormai, che già costituiscono pezzi di storia dell'arma di cui tutti i militari del Cufa possono andare orgogliosamente e giustamente fieri. Bravi. Avviandomi a concludere, ringrazio altresì il mio COIR, con il quale ho sempre mantenuto un dialogo franco e costruttivo e che ha offerto, in ogni circostanza, in piena sintonia di intenti con il Comandante, una fattiva ed encomiabile collaborazione, sempre finalizzata alla più sollecita individuazione e soluzione dei problemi dei reparti. Un saluto affettuoso, infine, alle famiglie di tutti i militari e degli oti, nonché un sincero grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri, all'Associazione Nazionale Forestali e all'Opera Nazionale Assistenza degli Orfani, dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, custodi delle migliori tradizioni istituzionali e costantemente vicini ai partecipi delle vicende dei Carabinieri del Cufa in servizio. Al Generale Antonio Marzo, collega ed amico dal 1977, finora mio prezioso Capo di Stato Maggiore e mio successore al Comando, il mio sincero augurio di lavoro proficuo, nella certezza che tutti i componenti del Cufa continueranno ad assicurare il proprio prezioso apporto con passione, onestà ed intelligenza che saranno certamente foriere di ogni soddisfazione personale e professionale. Infine, mi sia consentito quale Comandante che si appresta a riporre tra le cose più care l'uniforme sulla quale rifulgono gli splendidi alamari, rivolgere all'intera arma dei Carabinieri e al Signor Comandante Generale che rappresenta tutti noi e che ancora ringrazio per la sua presenza i migliori auguri per il futuro che, ne sono certo, vedrà ancora tanti ulteriori successi nei secoli a venire. Viva il Comando delle Unità Forestali e Ambientali e Agroalimentari, viva l'arma dei Carabinieri! Prende la parola il Generale di Divisione Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari subentrante. Ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati, carabinieri, operai a tempo indeterminato e determinato e personale civile della difesa, consapevole della responsabilità che mi sono state affidate, assumo l'incarico di Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari con fierezza ed orgoglio. Tra queste mura della Scuola Forestale Carabinieri di Città Ducale sono custodite le tradizioni e la cultura del Corpo Forestale dello Stato. In questo luogo si è compiuta parte della sua gloriosa storia ed è qui con un pensiero rivolto alla Virgo Fidelis patrona dell'arma e a San Giovanni Gualberto patrono e maestro dei forestari di ieri e dei carabinieri forestari di oggi che voglio esprimere la mia immensa gratitudine al Signor Comandante Generale per la fiducia accordatami affidandomi questo prestigioso incarico. Sentimenti di viva riconoscenza rivolgo ai Signori Generali Comandanti che in questi anni si sono succeduti al Comando della Grande Unità per la meritoria e preziosa opera svolta e per avermi dato l'opportunità e il privilegio di essere stato alle loro dipendenze. Un pensiero particolarmente grato al Signor Generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo al quale oggi ho l'onore di subentrare al Comando per essere stato per me sin dai tempi dell'Accademia figura di esempio e di riferimento per la convinta e salda adesione ai valori fondanti della nostra istituzione la straordinaria determinazione l'autorevolezza e il rigore morale che l'hanno sempre contraddistinto auguro a lui e alla sua famiglia un sereno e prospero avvenire. Rivolgo il mio deferente omaggio alla bandiera sicuro riferimento per tutti noi in essa come nello storico vessillo del corpo forestale dello Stato custodito in questa scuola vivono i valori la fede il sacrificio e l'impegno che ci animano e ci incoraggiano per costruire con convinta determinazione il nostro futuro un riverente pensiero ai nostri caduti che ci hanno lasciato un esempio di fedeltà genuina e dedizione assoluta indicandoci un percorso da seguire in momenti difficili il mio affetto e la mia vicinanza alle vedove e agli orfani che sopportano con dignità e un colmalbile assenza all'Onomac va tutta la mia immensa ammirazione per la preziosa impareggiabile attività di sostegno e vicinanza ai suoi assistiti un pensiero grato ai soci dell'NRC e dell'Anfor solida testimonianza di continuità spirituale indissolubile legame con i commilitoni in servizio il mio più vivo e particolare saluto a tutti i delegati della rappresentanza militare con i quali continuerà il colloidato rapporto di leale e costruttiva collaborazione nell'interesse comune di promuovere il benessere del personale un sentito grazie al vicecomandante del CUFA il generale Davide Laurenti per il suo prezioso supporto e un particolare sentimento di gratitudine e affetto ai comandanti di corpo con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni e ai componenti tutti dello Stato Maggiore per lo spirito di leale collaborazione sempre da me avvertita ed apprezzata quando il signor generale Tullio Del Sette allora comandante generale dell'arma dei carabinieri al quale va sempre la mia gratitudine e riconoscenza mi conferì l'incarico di capo di Stato Maggiore del neocostituito comando unità forestali ambientali e agroalimentari provai un sentimento di profondo entusiasmo legato alla consapevolezza che mi trovavo di fronte ad una sfida significativa costruire contribuire alla riorganizzazione di uno strumento finalizzato alla difesa dell'ambiente e alla conservazione della natura del nostro Paese sentivo che dopo oltre 40 anni di servizio mi attendeva un progetto che avrebbe segnato la mia vita professionale un progetto al quale mi sarei dedicato con cura lealtà impegno rispetto e passione oggi posso affermare che questo incarico ha segnato la mia vita professionale ho visto due realtà incontrarsi il colpo forestale dello Stato e l'arma dei carabinieri ho conosciuto grandi donne e grandi uomini ho visto nascere idee e realizzare progetti ho visto tante incertezze superate numerose criticità risolte siamo andati oltre le difficoltà perché sapevamo che insieme avremmo trovato una soluzione la vostra passione nel fare il vostro genuino e autentico spirito di servizio la vostra naturale predisposizione a prendervi cura della natura e del proteggere la piccola parte del creato ha consentito sin dal primo momento di instaurare rapporti di collaborazione professionale leali profiqui e fondati sul rispetto reciproco prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi lo scrive Papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli Tutti avere cura di noi stessi vuol dire proporsi e promuoversi alla collettività quale sicuro riferimento umano e sociale per dedizione e integrità tutti noi siamo dunque chiamati a esprimere la competenza l'impegno e l'entusiasmo necessari per garantire la giusta cura dell'ambiente nostra casa comune la nostra missione istituzionale qualifica e giustifica la nostra fierezza e essere impegnati come autentico ed esclusivo riferimento in Italia per le esigenze particolari del nostro territorio e per il bisogno dei cittadini di oggi e delle generazioni future e di vivere in un sistema che garantisca salute sicurezza ed equi rapporti sociali e questa è la nostra sfida tutelare il paesaggio fermare il degrado ambientale e l'inquinamento del territorio garantire qualità e sicurezza nel settore agroalimentare promuovere l'adozione di comportamenti corretti e responsabili ed è del tutto evidente il profondo legame tra la biodiversità il clima della terra l'uomo e l'ambiente consentire la perdita della biodiversità equivale a consentire alla terra che è madre di perdere vita preservare gli ecosistemi è un dovere fondamentale per la civiltà umana per la sua sopravvivenza e sua prosperità l'ambiente rappresenta la forma più autentica della nostra memoria l'elemento fondamentale della nostra identità culturale umana da preservare e tramandare a generazioni future ora tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo affinché questo momento di crisi che ha coinvolto tutta l'umanità si trasformi in opportunità di crescita le nuove linee che saranno tracciate per ridisegnare un percorso di innovazione e trasformazione dovranno necessariamente avere come protagonisti l'uomo l'ambiente nella riscoperta dei valori etici ci attende un grande impegno e una grande responsabilità che insieme riusciremo a fronteggiare se saremo capaci di sommare efficienza operativa e sensibilità umana a voi carabinieri di ogni ordine grado operai ma stransi tutte che quotidianamente affrontate con alto spirito di servizio e un impegnativo compito a voi da sempre garanti del principio di prossimità ambientale alle comunità anche nelle zone più disagiate confermo che sarò sempre al vostro fianco pronto ad ascoltarvi e a non farvi mancare il mio incondizionato sostegno e incorreggiamento a tutti l'auguri di buon lavoro viva l'arma dei carabinieri viva l'Italia Prende la parola il generale di corpo d'armata Teo Luzzi comandante generale dell'arma dei carabinieri Sarò riposo grazie sarò breve come come il mio solito ho voluto con determinazione questo momento e grazie anche a la condivisione del generale D'Angelo è stato realizzato non per una grazie non per una questione burocratica di un avvicendamento tra i comandanti ma perché credo che questo momento abbia anche soprattutto un valore etico e un valore sentimentale perché l'avvicendamento di un comandante è una tappa della storia di un comando e la storia va sempre avanti e le tappe vanno suggellate con momenti di riflessione quindi questa mattina è un momento di riflessione su un avvicendamento che io so già che sulla linea della continuità non è un avvicendamento alla marinaresca maniera indietro tutta andremo avanti con la continuità sulle scelte fatte fino ad oggi ovviamente con obiettivi che sono avanti e non a caso è stato individuato il generale Marzo come la persona più giusta per comandare questo comando che è un comando ovviamente con le sue peculiarità molto molto particolare è un comando nel quale l'arma crede molto personalmente credo tantissimo si tratta di salvaguardare il territorio nazionale di fronte a insidie che forse in questo momento nemmeno ce ne rendiamo conto perché sono insidie che nascono sul territorio l'Italia è un paese altamente antropizzato e sono insidie che arrivano anche dall'estero perché l'ambiente non è fatto con parti stagni l'ambiente è globale e quindi le minacce che in questo momento sono lontane possono diventare minacce reali e danni concreti sul territorio nazionale e l'Italia ha la fortuna uso questo termine tra virgolette di avere qualcosa di straordinario che è la componente forestale i poco meno di 7 mila uomini che hanno una storia ultracentenaria che hanno un'esperienza in materia di prevenzione di tolue ambientale della biodiversità e anche di carattere investigativo che è qualcosa di unico a livello mondiale e questo è qualcosa che ci deve dare fiducia a noi cittadini perché comunque abbiamo una struttura che è in grado di tutelare con tutti ovviamente i limiti che il caso comporta di tipo giuridico perché poi le scelte giuridiche non sono nostre ma sono del legislatore però ce l'abbiamo e questo comparto va assolutamente valorizzato gli va riconosciuto il valore che rappresenta sul territorio nazionale ed è un comparto a cui i cittadini devono guardare con gratitudine perché sono il salvatore dei loro stessi e delle future generazioni va è un comparto che ripeto va portato avanti quindi con atti successivi nel tempo che ovviamente adesso da oggi in avanti se ne farà carico il genere marzo ovviamente la mia persona è lo stato maggiore ma che poi se ne farà carico anche chi colui che succederà il genere marzo ed è un comparto nel quale noi dobbiamo credere tutti quanti dobbiamo credere fortemente per l'importanza che ha sul territorio nazionale a questo io ho aggiunto una mia visione che è anche particolare che è stata anche condivisa che sta che viene condivisa dall'autorità politica di governo e che al quale ho la collaborazione di un nuovo consulente che ho nominato al comando generale che poi è il generale Costa perché vorrei dargli anche una pressione più internazionale per una serie di considerazioni intanto per quello che dicevo prima l'ambiente non è un problema solo italiano l'ambiente è globale e noi che abbiamo un comando una forza così importante possiamo anche essere i primi della classe a livello internazionale ovviamente in ragione di quanto il governo ci vorrà considerare e in ragione anche della sensibilità che altri paesi avranno però sicuramente da un punto di vista culturale prima di tutto e da un punto di vista anche di collaborazione operativa possiamo dire la nostra su un piano internazionale e su questo ci dobbiamo muovere in sinergia ovviamente con coloro che faranno le scelte in questa materia che poi sono il ministro dell'ambiente sono il ministro degli estri in parte anche il ministro della tutela politica agroalimentare forestale eccetera e ovviamente il governo nella sua totalità quindi vi dico questo perché io credo fortemente in questo comparto sia per la tutela del territorio nazionale sia per una parte in quota una proiezione culturale a livello internazionale e prima di suggerare il passaggio l'avvicendamento dei due comandanti pur in questa atmosfera così surreale poche persone ma detto l'ho voluta fortemente comunque per il valore etico che ha e l'ho voluta fortemente in questa scuola perché rappresenta per certi aspetti l'unità del comparto al di là poi dell'appartenenza al Cufa o all'ispettorato delle parti di istruzione perché poi qua di fatto c'è una sua storia l'ex corpo forestale dello Stato ma soprattutto perché c'è la bandiera la bandiera rappresenta l'unità nazionale rappresenta il valore della patria qualsiasi bandiera tricolore e in questo caso rappresenta anche una storia ultra-certionaria che ci deve dare lo stimolo per guardare il futuro una storia che ci insegna tanto in materia di tutela territoriale ambientale e che ci deve ispirare da un punto di vista operativo e da un punto di vista anche morale a come agire nel futuro prima di passare all'avvicendamento tra i due comandanti vi prego di portare il mio saluto a colleghi che non sono qua ovviamente ai 6.700 6.800 carabinieri forestali quindi tramite voi immagino mi piace pensare che arriverà questo messaggio di saluto a tutti i carabinieri un saluto all'associazione nazionale carabinieri e all'anfor che non è qui ma è come se la fosse idealmente presente che sono colleghi che hanno dato tante energie in passato e che dobbiamo sempre ricordarceli perché i veterani non vanno mai dimenticati che ha dato la propria vita da un punto di vista dell'orario da un punto di vista delle energie allo Stato e soprattutto ha dato la propria vita a queste strutture e ce lo dobbiamo sempre ricordare e un ultimo saluto che vi chiedo di portare le famiglie io ottengo molto questo passaggio delle famiglie perché il nostro è un lavoro duro è un lavoro legato anche a trasferimenti a orari a volte strani a volte anche imprevedibilità dell'attività di servizio non è facilmente pianificabile durante il covid non abbiamo fatto smart working perché i carabinieri hanno difficoltà a fare smart working magari altri dipendenti dello Stato se ne sono stati case al caldo coccolate dalle mura domestiche noi non ce lo siamo potuti permettere ecco questa gravosità del nostro lavoro ricade anche sulle famiglie quindi è giusto che lo ricordiamo che le nostre famiglie ci sono e dobbiamo essere a queste famiglie riconoscente in questo momento vorrei che portaste il mio saluto alle famiglie e chiudo ho promesso di essere breve e chiudo con esprimendo alcuni sentimenti nei confronti prima del del generale d'angelo io la prima volta che ho visto il generale d'angelo dall'iovo dell'accademia fai un tiro ti prego dall'iovo dell'accademia andai in rappresentanza 4-5 allievi alla scuola ufficiale dopo 2-3 mesi che ancora non sapevano a meno di essere militare non sapevano dove ero arrivato non sapevano cosa stavano facendo e lì trovo il sottotenente Ciro d'angelo capo corso del suo corso che mi riceve in maniera sempre molto autorevole ma molto affettuosa come sempre è stato nella sua vita e lì è stato il mio primo ricordo con il generale d'angelo poi ci siamo seguiti umanamente prima che professionalmente per tanti anni ha comandato il nucleo operativo vicino a casa mia Rimini poi mi ha lasciato per andare a tenenza di Bovino dove la centrale operativa abbiamo scherzato per una vita si chiamava non il gergo c'erano le denominazioni delle centrali trattore cioè tenenza di Bovino centrale trattore questa cosa mi ha sempre colpito a volte quando la fantasia di coloro che elaborano documenti possano avere quindi non vi ammetto tutti i comandi comando generale incarichi di comando legionale importanti OIV e quant'altro quello che voglio sottolineare è che per me è sempre stato un riferimento da un punto di vista di etica militare e lo dico qui davanti a voi senza tentennamenti con profonda convinzione perché il generale D'Angelo per me e per tanti colleghi che l'hanno conosciuto e con i quali hanno lavorato insieme a lui o comunque l'hanno frequentato o comunque l'hanno vista è stato un esempio di etica militare e con questo ricordo io Ciro ti faccio tanti auguri per il proseguo della tua vita in una posizione diversa da quella del servizio attivo e sono certo che avrai le soddisfazioni che meriti per il ricordo che hai lasciato in l'arma e per le capacità che ancora puoi esprimere e ti prego di salutare seguendo i ragionamenti prima anche Anna e i ragazzi con cui ci conosciamo da tanti anni quindi auguri per il tuo futuro che sia luminoso e raggiante Antonio Marzo è stato scelto non a caso quale comandante del Cufa è stata una riflessione prima fatta dal Giannistri poi l'ho fatta pure io perché riteniamo ritengo visto che la responsabilità è mia in questo momento e io ho deciso di lasciarlo comandare il Cufa che sia la persona giusta un po' perché conosce tutto il comparto che è un comparto comunque complicato articolato con anime diversificate perché poi c'ha mille rivoli di obiettivi istituzionali da conseguire è un comparto che viene da una sua storia che non va mai dimenticata la storia del corpo forestale dello Stato va sempre ricordata perché ripeto è il raggio di luce che consente di guardare verso il futuro è un comandante che ha avuto tutte le esperienze possibili nell'arma sta in sui posi Antonio da in carica di Stato Maggiore anche di alto profilo comando generale comandi territoriali anche in area particolarmente complessa e sensibile ve li ometto perché tanto lo conoscete e ne conoscete le sue professionalità ecco quello che dico lui davanti a tutti che sono certo che sono certo che farà lavorare il personale del comparto con serenità perché lui è una persona serena e trasmetterà serenità sono certo che valorizzerà le professionalità di ognuno per conseguire gli obiettivi istituzionali e sono certo che riuscirà a fare squadra cioè fare senso d'appartenenza condividere uno con l'altro uno al fianco con l'altro gli obiettivi istituzionali vuol dire centuplicare l'efficienza del comparto così come ha fatto il generale D'Angelo il generale Marzo continuerà su questa strada e sono certo che otterrà dei risultati sempre più qualificanti alla fine nell'interesse di un'entità che spesso viene dimenticata che il cittadino cioè noi lavoriamo per la gente lavoriamo per il cittadino in questo caso lavoriamo per dargli una qualità di vita migliore e se il comando lavora bene il prodotto al cittadino è un prodotto di grande qualità e vuol dire essere utili per il nostro paese e vuol dire essere utili come dicevo prima anche eventualmente per chi ce lo chiederà fuori dai confini italiani con questo chiudo quindi ufficialmente suggello l'avvicendamento dei due comandanti e a tutti voi vi auguro un lavoro sereno e vi auguro di poter dare quei risultati che l'arma e che gli italiani si aspettano grazie di cuore e a presto grazie